Ciao Davide, sei qui con la maglietta del volontario, però sotto quella maglietta c'è quella dello sponsor della manifestazione Rebus Pavimenti SRL. Cosa porta un'azienda ad investire nello sport? Sì, premento che da qualche anno sono entrato a far parte della squadra master e il partecipare agli allenamenti, il vedere i ragazzi allenarsi mi ha portato a voler contribuire attivamente alla realizzazione di questo tipo di eventi. È sempre bello poter partecipare, poter vedere questi ragazzi che con fatica e con sudore realizzano i propri sogni. Beh, è un contributo importante quello che tu dai perché permette la realizzazione, la messa a terra diciamo di questi eventi che sono sicuramente belli dal punto di vista sportivo ma sono anche occasioni di crescita per gli atleti, per cui grazie per il supporto che tu dai e in bocca al lupo per la tua attività master. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie a voi.